...como le mani di mio padre per farvi attraversare la vita che ho deciso e non più prestito, aspettando l'occasione come fosse una stagione come una buona idea, a qui non rinuncia quello che ho sentito e perché non può più aspettare e speciano i ricordi tra grovini di emozioni ci sarà un momento per restare soli perché sarò la porta